benvenuti al mio piccolo pony presentazione di un pony ora vedrò la terza line confezione 12 scatola ai miei pony favorito e pleasing per esempio il mio pony preferito i miei pony preferiti sono rarity letter shot e twilight per me sono le più belle se cerco questi due capelli la luce ok ti marco a sottofaglia ok questi belga non si dà bene e tutto conti di tutto il 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 ma comunque eh felice che andiamo a me per la testa felice che andiamo a tutti ciao